Siamo alla pagina degli spettacoli, Asiago si prepara ad accogliere il grande concerto show di Red Canzian per lo storico cantante e bassista dei Pooh, quasi un ritorno alle origini di una carriera di successi. Due ore e mezza di brani non solo dei Pooh, 90 fotografie proiettate sul maxischermo, aneddoti, racconti e imitazioni per rievocare oltre mezzo secolo di storia italiana. Ho visto fiorire 60 volte il calicanto, l'istantanea di una vita che Red Canzian ha scelto come titolo del concerto show ispirato alla sua autobiografia. Con lui sul palco la figlia Chiara, un quartetto d'archi e due chitarre acustiche per un viaggio coinvolgente e ironico nei ricordi personali e nella memoria collettiva. Lunedì 18 agosto alle 21 la tappa in piazza Duomo ad Asiago attesissima anzitutto dallo stesso Red. Sono felice di venire ad Asiago perché è il concerto forse assieme a quello di Treviso che è stata la mia città che ho fatto a giugno, è il concerto al quale tengo di più perché io qui ad Asiago ho incontrato per la prima volta i Pooh al Festival Bar nel 71 e allora racconterò tutto questo episodio che dietro al palco abbiamo parlato molto io e Roby ed è stato probabilmente sai quei piccoli segnali che ti fanno capire che la vita ha deciso per te qualcosa e sarà una serata emozionante, è una maniera per conoscere quello che non sapete se siete giovani, per ritrovare quello che avevate magari rimosso se avete la mia età ma comunque per vivere il racconto di un sogno e i sogni non fanno mai male.